Questo video è offerto e realizzato da Le Iene Stabiesi. Buona visione. Rubens Antoni con la attaccante classe 93. Ha alle sue spalle un curriculum di tutto rispetto giocando vari campionato in eccellenza e vestendo maglie di un certo blasone come Sant'Antonio Abate, Angri e Libertas Stabia. Poi nell'estate del 2017 ecco che il suo ritorno a Castellammare nelle fila dei Friends del presidente guida. L'attaccante ha nel suo pregio la determinazione e la volontà di lottare su ogni pallone e insieme al resto della squadra condurranno il club alla storica promozione in prima categoria. Nel video in corso ecco quattro realizzazioni con il Cava United la sua vittima preferita. Sono tre i centri contro le Aquile tra cui due proprio Cava e l'altra tra le mura amiche di Casola. Per concludere con la rete sul campo del Casal Nuovo nel campionato in corso. Una categoria da mantenere con le unghie e con i denti nonostante le tante difficoltà incontrate quest'anno dia dalla squadra e sua per Ruben. Ma se la nostra punta gioca come sa giocare allora nessun traguardo può essere ostacolato. Forza Ruben!